l'obiettivo velger è nostro avanti così abbiamo abbastanza obiettivi da controllare la battaglia perdiamo l'obiettivo e abbiamo perso l'obiettivo quell'obiettivo deve essere nostro abbiamo perso l'obiettivo velger soldati aiuto siamo presi l'obiettivo la è pericoloso sangue aiuto abbiamo perso il controllo dell'obiettivo avanti soldati conquistiamo l'obiettivo soldati 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 Sì, sì, sì. Abbiamo preso l'obiettivo Baker. Laggiù. Meglio stare all'epoca. Muoviamoci! Mi sono ticciati! Mi sono ticciati! Mi sono ticciati! Alerte! Abbiamo preso l'obiettivo Aibon. Abbiamo preso l'obiettivo Aibon. Abbiamo preso l'obiettivo Aibon. Vi aiuto io, soldato. Soldati, stiamo perdendo l'obiettivo Aibon. ... 저희анию Aibon. Sì Medico Medico Attenti stiamo perdendo l'obiettivo Charlie Per me aiuto Respira, ti rimetterò in sesto Sì 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 Grazie a tutti.